Dental City Attenzione, se cerchi specialisti in ambito medico, chiama CityMed, centro medico specialistico. Tanti professionisti esperti con esperienza impegnati nella ricerca e nello studio delle più aggiornate tecniche e terapie mediche. Dental City e CityMed, a Monte Cassiano, presso il nuovo centro commerciale, in via Mainimi 79. Siamo tornati di nuovo in studio, sempre con la professoressa Campanati e il dottor Dottor Tallevi per parlare della psoriasi. Continuiamo un attimo a parlare delle terapie. Dottore, ci vuole dire qual è la differenza tra trattamenti sistemici tradizionali e trattamenti sistemici innovativi? Sì, trattamenti sistemici tradizionali sono trattamenti che noi utilizziamo da tanti anni. Prima abbiamo parlato della ciclosporina, dei retinoidi e del dimetilfumarato. Sono dei trattamenti efficaci, che hanno degli effetti collaterali, a differenza invece dei trattamenti sistemici innovativi, che sono dei trattamenti molto più mirati alla cura della malattia. Cioè, le scoperte che sono state fatte in questi anni sulla patogenesi della psoriasi, cioè sul meccanismo che la provoca, hanno permesso di ricercare, quindi di trovare, delle soluzioni terapeutiche molto mirate contro delle molecole, contro delle proteine che contribuiscono all'infiammazione della psoriasi. Quindi i farmaci biologici sono dei farmaci che hanno come bersaglio le citochine, quindi l'interleuchina 17, l'interleuchina 23, che sono delle proteine che contribuiscono appunto all'infiammazione della malattia. E poi ci sono degli altri farmaci innovativi, che sono le cosiddette piccole molecole. Cioè, qui il bersaglio non è una proteina che va in circolo o che sta nella placca, ma è una proteina che sta addirittura all'interno della cellula. Mi viene in mente, ad esempio, un farmaco che è indirizzato contro la fosfodiesterasi di tipo 2, che è molto efficace in alcune forme di malattia. Dottore, ma questi farmaci biologici possono avere degli effetti collaterali? Allora, questa è una domanda che i pazienti ci fanno spesso. Rispetto ai farmaci tradizionali, i farmaci biologici hanno pochissimi, quasi nulli effetti collaterali. Gli effetti collaterali più riportati negli studi che vengono fatti per mettere in commercio questi farmaci biologici sono legati alle infezioni delle alte vie respiratorie, quindi ai raffreddori. Comunque sono effetti collaterali molto tranquilli che in poco tempo, insomma, spariscono. E alle infezioni, per quanto riguarda, ad esempio, gli anti-interleuchina 17, cioè quelli che hanno come versaglio questa citochina, le infezioni micotiche, quindi le infezioni fungine. Però nella nostra esperienza sono rarissime, cioè non le vediamo quasi mai. Quindi rispetto a tanti altri trattamenti per l'apsoriasi, in realtà sono i più sicuri, potremmo dire. Bene. Professoressa, ecco, abbiamo parlato appunto di questi farmaci biologici, ma come vengono somministrati i farmaci biologici e per quanto tempo? Allora, i farmaci biologici vengono somministrati per via iniettiva. La stragrande maggioranza, la totalità dei farmaci biologici viene distrutta se somministrata per via orale. Sono farmaci che vengono attaccati dai succhi gastrici e quindi non è possibile una somministrazione per via orale, quindi si ricorre alla via parenterale, in particolare alla via sottocutanea. I pazienti però imparano a gestire la propria autosomministrazione del farmaco, perché le aziende che poi producono questi farmaci mettono a disposizione dei pazienti dei device che semplificano la somministrazione del farmaco stesso, in particolare per quei pazienti che magari sono tra virgolette agofobici, hanno paura dell'ago e quindi per essi insomma c'è anche questa possibilità. Il vantaggio dei farmaci biologici è che è vero che devono essere somministrati per via iniettiva, ma è anche vero che la somministrazione non è giornaliera. Cioè esistono farmaci che possono essere somministrati una volta alla settimana, ma addirittura adesso esistono farmaci che sono somministrati ogni tre mesi, per cui con quattro semplici inizioni il paziente può raggiungere un buonissimo, un ottimo controllo di malattia, a volte con la remissione clinica completa delle manifestazioni cutanee. E questo ovviamente rappresenta un approccio terapeutico straordinario, perché il paziente si libera anche mentalmente della malattia, sapendo di poter ricorrere a una terapia che è efficace, che è sicura e che non è impegnativa in termini di tempo, perché può essere autosomministrata e gestita con tre, quattro iniezioni l'anno, chiaramente la qualità di vita del paziente migliora moltissimo. Ma professoressa, esistono dei farmaci innovativi che possono essere invece somministrati per via orale? Sì, esistono dei farmaci innovativi che possono essere somministrati per via orale, e sono le piccole molecole. Attualmente in Italia abbiamo a disposizione un'unica piccola molecola, che è un inibitore della fosfodiesterasi 4, che agisce specificatamente su tanti bersagli che sono responsabili di malattia, e quindi questa è un tipo di terapia che è diversa dalla terapia dei biologici, perché i biologici agiscono mirati nei confronti di specifiche molecole. Le piccole molecole, in particolare l'inibitore della fosfodiesterasi 4, agisce impedendo che il segnale esercitato da queste molecole diventi evidente sotto il profilo clinico. È un concetto di terapia definita da ombrello. Il vantaggio di questo tipo di terapia è appunto la somministrazione orale, che per alcuni pazienti che, come dicevo prima, magari sono agofobici, può rappresentare un'alternativa di somministrazione interessante. Questi farmaci, insomma di cui abbiamo parlato, innovativi, biologici, possono essere iniziati a qualsiasi età? Allora, questi farmaci hanno tutti l'indicazione per l'età adulta, quindi nei pazienti che hanno più di 18 anni di età. La maggior parte di essi può essere somministrata anche a bambini o adolescenti, con età di partenza che sono diversificate a seconda della molecola. Ci sono farmaci che possono essere somministrati a partire dai due anni di età, altri che possono essere somministrati a partire dai 4, chi dai 6, chi dai 12. Comunque diciamo che anche nell'età infantile, adolescenziale, il paziente psoriasico ha delle opportunità terapeutiche innovative che gli possono permettere di tenere veramente la malattia sotto controllo. E a questo proposito ritengo che instaurare una terapia precoce, con farmaci come questi, che sono appunto in grado di far regredire lo stato infiammatorio, metta il paziente al riparo da quelle che sono le complicanze a lungo termine della malattia. Perché come dicevo prima, il rischio cardiovascolare che si sviluppa nel paziente psoriasico è anche direttamente proporzionale alla durata della malattia. Quindi più precocemente noi riusciamo a tenere sotto controllo la malattia, minore è il rischio che quel paziente sviluppi le cosiddette comorbidità psoriasiche, che variano appunto dall'artrite psoriasica, alla sindrome metabolica, al rischio cardiovascolare franco. Le volevo chiedere professoressa, c'è un'età particolare in cui insorge la psoriasi perché è predisposto, oppure può insorgere, non so, magari a qualsiasi età, 10 anni, 20 anni, 40 anni? Cioè in realtà la psoriasi può esordire a qualunque età. Ecco. Però esistono i cosiddetti due picchi di incidenza. C'è un picco di incidenza che corrisponde all'età compresa fra i 20 e i 30 anni e un secondo picco di incidenza più tardivo che corrisponde all'età intorno ai 50-60 anni. Sono età critiche in entrambi i casi. Sono età critiche in entrambi i casi perché nel caso del paziente che sviluppa una psoriasi precoce intorno ai 20-30 anni è chiaro che poi la persistenza di malattia per un periodo molto lungo predispone il paziente a sviluppare, come ho detto più volte, rischi di tipo cardiovascolare. Ma è anche vero che la psoriasi che esordisce tardivamente colpisce un soggetto che è in una fase, diciamo, più fragile della propria vita. In questo magari penso alle donne che sono in menopausa. Quindi esistono delle differenze nei picchi di incidenza, ma in entrambi i casi la psoriasi incide, compare in fasi della vita che possono essere, diciamo, degli snodi cruciali per la vita del paziente in termini anche di salute stessa dell'organismo. Certo, bene. Dottore, ecco, i farmaci biologici sono farmaci costosi per il paziente? Allora, fortunatamente no per il paziente. Il paziente affetto da psoriasi, se appunto il dermatologo ritiene che possa giovare di una terapia biologica, non paga nulla. Quindi il paziente non paga niente, il sistema sanitario sì, chiaramente. Ma come fare con un paziente psoriasico ad accedere ad una terapia biologica, dottore? Deve rivolgersi a quei centri dermatologici che hanno dermatologi che possono prescrivere la terapia biologica. Nelle Marche tutti, quasi tutti, insomma, i presidi ospedalieri in cui c'è la dermatologia hanno dermatologi che prescrivono terapie biologiche. Poi noi come centro ospedaliero universitario facciamo anche ricerca su queste terapie, però anche gli altri centri, insomma, possono prescriverli. Ecco, l'esenzione del ticket, insomma, per accedere alle terapie normative della psoriasi, quindi è possibile? Allora, non serve l'esenzione per accedere a queste terapie. Quindi tutti i pazienti, no? Prima abbiamo parlato di quelle tre categorie, ma anche i pazienti che hanno la psoriasi a placca normale, e quindi non hanno l'esenzione, possono accedere alla terapia senza pagare nulla. Le terapie sono costosissime per il sistema sanitario nazionale. Il paziente, quando legge, no, sulla confezione, il prezzo, una confezione può costare anche mille, duemila, tremila euro, ok? Tantissimo. Tantissimo. Ma il paziente non paga nulla. Professoressa, ecco, ci vuole dire qual è il futuro della terapia della psoriasi? Sì, c'è grande fermento ancora attualmente attorno alla ricerca sull'apsoriasi, perché l'apsoriasi è alla fine un modello di malattia che dobbiamo ancora capire fino in fondo. Di fatto, a parte l'avvento dei farmaci biologici e delle piccole molecole, sicuramente si stanno facendo grandi progressi nella ricerca di nuovi target terapeutici. Futuri target terapeutici potrebbero essere i cosiddetti microRNA. I microRNA sono dei piccoli filamenti di RNA che funzionano nel nostro organismo come degli interruttori molecolari che permettono ad alcuni geni di esprimersi o di esprimersi in modo variabile. Si sta facendo un grandissimo studio volto alla ricerca, all'identificazione del cosiddetto mirnoma nel paziente affetto da psoriasi, cioè la ricerca di quelli che sono i microRNA modificati nel paziente psoriasico rispetto al soggetto non affetto da psoriasi. E questo proprio perché si ritiene che i microRNA potrebbero diventare, non nell'immediato futuro, in un futuro probabilmente lungo, comunque dei bersagli terapeutici efficaci e in questo senso stiamo facendo degli studi anche noi in collaborazione con l'Istituto di Patologia Molecolare dell'Università Politecnica delle Marche. Non solo, abbiamo studiato anche presso il nostro centro da tanti anni l'espressione delle cellule staminali perché noi sappiamo che le cellule staminali mesenchimali che si trovano nell'acute sono dei driver, sono dei conduttori di malattia, sono implicati nello sviluppo di questa malattia e sappiamo che alcuni dei farmaci biologici che abbiamo a disposizione oggi sono in grado di modificare il profilo e l'aspetto di queste cellule staminali, le quali in realtà hanno anche un'intrinseca proprietà antinfiammatoria e tutti questi studi che sono nati dalla collaborazione con l'Istituto di Istologia dell'Università Politecnica delle Marche mirano all'identificazione in un futuro speriamo prossimo di un posizionamento della medicina rigenerativa per la cura dei pazienti affetti da psoriasi. Noi ci fermiamo per un'altra pausa pubblicitaria, restate con noi, torniamo tra poco sempre con la professoressa Campanati e il dottor Di Ottallevi per parlare della psoriasi e come di consueto nella terza parte con le domande dei nostri tre spettatori. Nuovo polo diagnostico a 25 anni dalla fondazione del centro medico associati Physiomed nella sede storica di via Natali 1 a Sforza Costa dopo aver aperto centri medici a Corridonia, Tolentino e Cevita Nova Marche, il gruppo medico Physiomed ha deciso di raddoppiare e rafforzare la sua presenza a Sforza Costa, aprendo una seconda sede, sempre a Sforza Costa, in via Giovanni 23esimo numero 8. Per info e prenotazioni 0733 20 28 80. La sanitaria Fogliardi del tecnico ortopedico dottor Andrea Bellavarva, da oltre 80 anni al servizio del cliente con cortesia e professionalità, è specializzata nella produzione a mano di plantari su misura di ogni genere, con esame baropodometrico elettronico gratuito, statico, dinamico e morfologico. Negli storici locali di via Esonzo ad Ancuna vi aspetta un vasto assortimento di prodotti per l'ortopedia, corsetteria, elettromedicali ed ausili per disabili, fornitore autorizzato Asuro Inail, disponibilità di noleggio ausili ed elettromedicali, locali sanificati 24 ore su 24, con tecnologia certificata e da oggi possibilità di acquisto di diversi modelli di sanificatori di produzione italiana. Per informazioni 071 20 33 24. Grandinetti Tende, progetta e realizza, pergole bioclimatiche, pergo tende, verande e tende da sole garantite dal prestigioso marchio internazionale Marchilux. Nei quattro punti vendita dislocati nella regione Marche troverete personale preparato e valorizzerà le vostre esigenze. Soluzioni originali ed eccellenti per valorizzare il vostro balcone, giardino, terrazzo o deor. Approfitta del bonus fiscale e dello sconto in fattura del 50%, valido fino a fine anno. Grandinetti Tende, pergo tende e bioclimatiche e ad Ancona, Porto Potenza Picena, Pesaro, Grotta Mare. Unifor SRL è l'impresa edile cui affidarsi per avere la garanzia di un lavoro a regola d'arte. Unifor è costruzioni edili, ristrutturazioni, cappotti termici, rimozione Ethernet, coperture civili e industriali, poliuree, poliuretani isolanti. L'impresa edile Unifor di Osimo usa isolanti ad alte prestazioni per intervenire nelle pareti e nel pavimento del sottotetto, riducendo rispettivamente del 30 e 60% la dispersione termica. Più valori al patrimonio immobiliare, ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche con detrazioni fiscali del 50 e 65%. Sprutta le vantaggiose possibilità dell'eco bonus 110%, sisma bonus, sconto in fattura e cessione del credito. Unifor SRL, via fratte 10 Osimo. Grazie a tutti.